Il corso propone l'analisi dei framework DigiComp Edu e DigiComp 2.2 per mettere in risalto quali competenze digitali il docente deve possedere e utilizzare nella sua attività didattica. Lo scopo è quello di fornire un quadro di riferimento a coloro che operano nel settore educativo e dell'alta formazione e sono incaricati di sviluppare modelli di competenza digitale. Il quadro si rivolge in particolare ai docenti e ai formatori di tutti gli ordini e gradi di istituzione. Nel percorso formativo si parla attenzione alle aree del DigiComp Edu e del DigiComp 2.2 anche evidenziando le novità rispetto al precedente framework 2.1 e a modelli di curriculum digitali.